dunque accendiamo lg perfetto attimino va bene sintonizzato su questo noi vogliamo andare a vedere ma non è piaciuto molto devo dire bellissimo allestimento fatiglio no di come stai seguendo ma scusa non è che chiede l'altra sera io continuo a pen mamma mia è un pochino ma ci vuole tempo prima che compri il menù ecco qua dunque diamo il matiziaio una volta l'abbiamo incontrato euronews ecco vediamo a che punto siamo con l'euronews vediamo dunque la mostra ci accompagna in un lungo viaggio alla scoperta dell'afghanistan del sud est asiatico e dei volti più nascosti dell'africa e dell'america latina vediamo l'indifferenza del bene no 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 ecco adesso pronto l'indifferenza del bene alber si sono io si l'ancum ho capito l'ancuten tv cosa c'è grazie a tutti 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 grazie a tutti